I focus quest'anno sono il primo sulla diffusione dell'innovazione, poi abbiamo Carlo Alberto Cimenti che è un alpinista, il primo italiano ad aver ottenuto l'onoreficenza Snow Leopard che ci parlerà dell'assonanza tra l'attività della montagna, quindi la solitudine, la ricerca della motivazione in se stessi, il superamento di difficoltà e poi abbiamo Luca Giordana che è un professore dell'Università di Bologna che è un antropologo, ci parlerà delle differenze culturali rispetto ai paesi e mercati diversi. I focus sono stati pensati appunto per dare un punto di osservazione diverso che ci portino delle esperienze diverse che però abbiano delle assonanze, abbiano dei punti d'incontro con l'attività del commerciale. L'utilità è quello di uscire fuori dagli schemi mentali soliti che noi abbiamo e attraverso una contaminazione anche culturale o esperienziale diversa riuscire a intercettare e a identificare alcuni concetti che possono essere utili nell'esercizio dell'attività del commerciale. Grazie a tutti.